Sì, mi rilascio, non dovresti ancora muovere. Sì, mi sta fuori, l'ho fatta. Non ricorda nulla. Non posso nascondirlo. Le mie mani sono ancora impegnate nel sangue di quei bambini. Mi sento il cuore. Mi rilascio, mi rilascio, è stato solo per salvare tutti noi. È solo per questo che l'hai fatto, Kini. Dove va con l'amostro? Se ti avvicini, cederà anche te, sta attento. Ma che va bene? Lui ha salvato il mio nonno, ci ha aiutati tutti, non lo capiti. Ha sconfitto per noi quegli uomini cattivi. Ed è un meccodemone. Ogni volta che Enojasha si trasforma in un demone, sembra che sia destinato a smardire la coscienza di città. Oggi neanche la voce di Kagon è abbastata a risvegliarlo. Non importa, mi raccomando. Se Enojasha dovesse diventare un mio demone, io continuerò a restarmi accanto. Esatto. Vi ho creato tanti problemi a causa di Coaku, eppure mi siete tutti rimasti vicino come se fosse naturale farlo. Perciò anch'io non sarò da niente. Perciò anch'io non sarò da niente. L'asciugamano... Non lo voglio. Non serve che tu mi manca vicina per forza. Ma che volete da me? È da prima che mi trattate tutti come se avessi la peste bubonica. Mi dispiace davvero tanto, ma io non posso farci niente, d'accordo? Quello che ho fatto non era intenzionale. Lo so, mi piace. Mi riso. Non temere, Enojasha. Io sopra sempre chi sei. Cagone, di quello che mi accade durante la trasformazione non ho alcun ricordo. Eppure te non era così. La prossima volta che mi trasformo, potrei uccidere anche te. Cagone, potrei ucciderti con queste stesse mani. Ah, c'è bello, c'è bello. C'è bello. C'è bello.